Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar Games ha rilasciato per questa settimana su Red Dead Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a lasciare un bel pollicione in su, commentare e condividere il video. Grazie a tutti i veri Orchetti che faranno queste tre cose in quanto ci vogliono solamente due secondi e mi aiutate davvero parecchio. E possiamo iniziare subito! Questo nuovo evento terminerà martedì prossimo, ovvero martedì 28 maggio. In questo evento come bonus c'è il 25% sul guadagno di dollari e oro. In tutte le missioni la terra delle opportunità, nelle missioni free rom, nelle modalità resi dei conti, nelle gare e negli eventi free rom. Per cui ottimo bonus che vi consiglio di sfruttare per guadagnare dollari e oro più velocemente rispetto al solito. Poi tutti i giocatori che giocheranno in una posse entro la fine di questo evento otterranno il regalo da Rockstar Games 5 lingotti d'oro. Per cui approfittate anche di questo per ottenere 5 lingotti d'oro come regalo da Rockstar Games. Nella descrizione di questo video lascerò il link dell'articolo di questo evento del sito Rockstar Newswire. Se volete dateci un'occhiata. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se siete nuovi iscrivetevi al canale e poi seguitemi sui social. Pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nell'escrizione. E da Orcouverde tutto ci vediamo al prossimo video. Bella!